Partiranno a stretto giro i lavori per il rinforzo delle scogliera a nord del comune di Roseto degli Abruzzi nel tratto che va da Lido Sara al torrente Borsacchio, questo grazie al finanziamento di 800.000 euro messo in campo dalla regione Abruzzo, durata dei lavori circa 45 giorni. Oltre a questo intervento partiranno a breve in previsione della prossima stagione estiva i lavori di ripascimento morbido nei punti dove l'erosione ha provocato maggiori danni, questo grazie a un ulteriore finanziamento sempre concesso dalla regione di circa 200.000 euro. Ancora una volta la collaborazione con la regione Abruzzo, con il sottosegretario De Annuntis, porta i frutti sperati. Il ripascimento non è la soluzione ottimale per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, ma in attesa di proteggere in maniera seria la costa, ricordate lo scorso anno 500.000 euro su Cologna Spiaggia, stanno per partire dei lavori di 600.000 euro di protezione della costa gestita dalla regione Abruzzo sul Roseto Nord e abbiamo noi in progettazione 900.000 euro, abbiamo chiesto un incremento su protezione delle scoglie al Roseto Sud. Insomma interventi a lungo termine che avranno una protezione più seria. Nel frattempo è importante però concedere a chi lavora nell'ambito marittimo e quindi a coloro che appunto fanno della stagione balneare e la loro possibilità, oltre che ai turisti che verranno nella nostra città, la possibilità di fruire delle spiagge in maniera consueta e quindi questi interventi di ripascimento e protezione nei prossimi mesi saranno su tutto il territorio, soprattutto nelle zone Colonia Spiaggia, Roseto Nord e anche una parte di Roseto Sud che sono sempre più danneggiate dalle mareggiate. L'amministrazione comunale inoltre sta cercando di accelerare il più possibile i lavori che stanno interessando il pontile, luogo simbolo del Comune Costiero. Il pontile stanno lavorando, la ditta ringrazio per lo sforzo che sta facendo, siamo in attesa dal Ministero del trasferimento poi oggettivo delle somme che permettono poi di poter scaricare quelle che sono le fatture, i pagamenti dei micropali, vi ricordate quell'intervento che dovrà agganciare la soletta del pontile ai pali che sono stati messi in sicurezza di questo intervento del masterplan, ricorderete 300 mila euro intercettati dalla mia amministrazione per completare un'opera che altrimenti sarebbe stata incompleta e non collaudabile. Corriamo affinché lo stesso pontile possa essere fruibile al più presto, non vogliamo incrociare le dita prima dell'estate, in ogni caso al più presto sarà finalmente calpestabile dai cittadini rosetani.